Salve amici, benvenuti. Oggi in questo bellissimo video nuovo parleremo della bicicletta a pedalata assistita. Questa qua è una bicicletta, la prima bicicletta come disegno inventata. Se vedete bene questa qua è la batteria, questo qua ha questo telaio molto particolare. Qua c'è il cambio, l'ho disegnata io quando ero ragazzino, tenevo 17 anni e l'hanno progettata i miei nonni che hanno inventato la bicicletta a pedalata assistita. Questa è mia nonna materna, ingegnere elettronico Antonietta Miele, era un ingegnere tedesco che si è esposta da San Felice a Cancello, un ingegnere bavarese di Russell Seym, dove sta l'Opel, era azionista, la socia dell'Opel, fino al 91 quando è morta. Vi vedete il mio video sull'Opel, su di lei. E dopo mio nonno che ha disegnato le altre, ingegnere meccanico Francesco Morgilo. Quindi tutte le biciclette a pedalata assistita sono state inventate da noi. Io ho inventato la prima, quindi questo disegno qua che vedete, ve l'ho fatto vedere, no? Ce ne sono di tanti tipi, di marche diverse, però il disegno è lo stesso, questa qua. Mentre le altre le hanno disegnate loro, disegnate e progettate loro. Quindi sono biciclette a firma mia, perché loro essendo mancati hanno messo la mia firma. Mi chiamo Francesco Iadaresta, sono ingegnere meccanico, laureato in economia, sia triennale che magistrale, ingegnere meccanico all'Università di Bari, ingegnere, sono mandato la laurea pure in architettura per i disegni che ho fatto. E qui vi dico la verità su questi progetti, su questi progetti, su queste aziende. Grazie e arrivederci.